Vallo della Lucania, Pantaleo le vede una brillante idea di mettere un cavallo nella vetrina. Passa Pasquale e poi ci scrive vicino, dice, ti fa ridere il cavallo un milione di premio. Passa Pasquale le leggi e dice, Pantaleo, c'è un cavallo di questo prezzo? C'è come se non sei capace di farlo. Ah, sì, questo è il problema, posso entrare? Ci prego. Prende un cavallo per un'orecchia, le sussurra qualche cosa, un cavallo scueta la testa. Prende un milione, e poi torna a scrivere, dice, chi fa piangere il cavallo un milione di premio. Passa una volta Pasquale. C'è valido questo premio? C'è come no? Però voglio vedere se lo fai piangere. Ti sento un po', me lo posso portare in tastovicolo in un momento qua sotto. Però che non me lo fai male. Gli ho il cavallo, lo porto sotto. Quando ritorno, il cavallo è tutto sconsolato, ho certe lacrime. Questo paga di nuovo. Ci grazie e arrivederci. Eh, è un momento. E cazzo, ti ha già pagato due volte, ci fa sapere almeno come è fatto. C'è semplice. Ci guardo. Quando il cavallo si è messo a rete, io ho già detto che volevo tenere più grossi di questo. e si è messo a rete. Musi mi jutella a rete. L'hanno messo a rete e si è messo a rete.